buongiorno parliamo dunque di CORS che sta per cross origin resource sharing e come abbiamo accennato nelle slide che parlavano di come aggiungere un'interazione client server ad un'applicazione react nel momento in cui abbiamo più di un server c'è da gestire appunto diciamo queste richieste che da un server tramite l'API fetch del browser devono essere effettuate ad un secondo server e quindi cerchiamo di capire meglio qual è il problema perché esiste questo problema e che cosa si può fare diciamo per cercare di gestirlo al meglio quindi impareremo cosa vuol dire origin in cross origin request che cosa sono queste richieste perché si usa come usarlo e soprattutto poi come usarlo in pratica in express di fatto il cross origin request sharing course ci serve per accedere a più websites quando lo facciamo tramite le richieste a sincrono in javascript questo accade spesso come abbiamo visto per esempio appunto ne abbiamo avuto bisogno nelle applicazioni react che sono servite perlomeno nella versione in cui usiamo l'ambiente di sviluppo di react da un certo server e poi abbiamo un secondo server web che ci fornisce l'accesso all'API REST in generale quando accediamo a una pagina web come diciamo quelle che siamo abituati a utilizzare quando navighiamo su internet sappiamo tutti che questa nel momento in cui carica una indica delle risorse esterne queste devono essere caricate dal browser quindi per esempio carichiamo una pagina html questa richiede altre risorse come immagini, css, codici javascript e così via e ovviamente a loro volta queste risorse possono richiedere altre risorse e quindi generare richieste in rete in particolare questo accade per esempio con javascript con le richieste fatte, effettuate tramite la fetch oppure il sistema precedente, le xml e http request per motivi di sicurezza come abbiamo già sottolineato più volte all'interno del corso javascript gira all'interno di una sandbox all'interno del browser quindi non può fare tutto quello che desidera per esempio tanto per fare un esempio non può accedere ai file locali del file system e un'altra limitazione è appunto quella che non può effettuare richieste in rete a piacimento quindi l'accesso alla rete per il codice javascript è di default limitato alla stessa origine e origine in questo contesto significa l'insieme di queste tre cose un URI scheme, cioè quindi di fatto il protocollo http oppure https un dominio che è quello che viene usato per essere risolto in un indirizzo IP e quindi conoscere il server da contattare e poi un numero di porta sulla quale è in ascolto il nostro server web per esempio nei nostri casi sono 3000-3001 quelle che usiamo più frequentemente dicevamo che di default il browser consente a javascript di accedere solamente alla stessa origin quindi questa è la cosiddetta same origin policy quindi a differenza della cross origin eccetera quindi solamente lo stesso URI scheme, domain e port number quindi diciamo che abbiamo caricato la nostra risorsa, la pagina html da questo url quindi ha schema http, dominio normalwebsite.com e numero di porta quindi non c'è scritto implicito è 80 che è la porta di default del server web su http quindi se vogliamo fare accesso ad un'altra risorsa per esempio senza esempio html questo chiaramente sarà consentito sarà consentito anche altre directory all'interno dello stesso dominio porta nel momento in cui cambiamo schema per esempio html questo non è più consentito questo di default poi impareremo ovviamente a gestire i casi quando necessario casi differenti questo stesso schema invece è differente dominio notate che anche solo un sottodominio quindi n, v, v eccetera non è consentito quindi il dominio deve essere uguale e questo è chiaramente il caso di una porta differente qui c'è un asterisco semplicemente perché c'erano certi browser che implementano una logica un po' diversa soprattutto mi sembra explorer nel senso che se per esempio se mettete 80 se ricordo bene se la mettete esplicitamente o non la mettete sono due casi diversi ma in realtà poi sono la stessa porta comunque sono tutti i dettagli che potete andare a ricercare negli url che vi mettiamo come riferimento nel momento in cui andiamo a caricare diciamo risorse da un origin differente questo crea un potenziale senza restrizioni ovviamente crea un potenziale rischio di sicurezza questo accade perché il browser di default questo è proprio come funziona il browser sul meccanismo dei cookie spedisce qualsiasi cookie che sia associato al dominio verso il quale manda la richiesta con la richiesta stessa questo succede di default e quindi se per caso noi fossimo che sono autenticati su un diciamo su un certo dominio diciamo bank.com la vostra banca tanto per fare un esempio classico perché abbiamo un tab del browser aperto sul sito della vostra banca con la sessione attiva questa sessione diciamo è identificata da un cookie e accediamo intanto in un altro tab a un altro sito che è un altro sito che è un altro sito example.com sito che ovviamente ha qualcosa che è di malizioso nel senso che ovviamente va a fare richieste sul sito bank.com quindi nel senso che cerca di caricare delle risorse sul sito bank.com magari utilizzando degli url che vanno ad effettuare delle operazioni quindi degli url attivi come sono per esempio le nostre API che mettiamo a disposizione per far funzionare le nostre applicazioni nel momento in cui se fosse consentito fare qualsiasi richiesta dalla pagina caricata su example.com verso qualsiasi altro dominio e noi per caso siamo autenticati con un cookie valido un cookie di sessione o di autenticazione valido sull'altro dominio questo sito da codice javascript potrebbe operare come se fossimo noi autenticati sull'altro sito e chiaramente questo non si vuole che accada e ovviamente è impedito però alcune volte è utile caricare risorse da un'altra da altre origini no origin ovviamente abbiamo già visto uno di questi casi che è sostanzialmente quello appunto che abbiamo per le mani che è quello dell'applicazione React in cui abbiamo un server differente che implementa le nostre API REST un classico caso tra l'altro è quello di usare appunto porte differenti o sottodomini differenti per esempio per distribuire meglio il carico spesso si usano sottodomini differenti per esempio che sono un server web per servire il contenuto statico e un server web invece per servire il contenuto dinamico come quello dell'API e così via potremmo fare l'esempio di API example com e così via oppure magari usiamo altri altri domini per esempio per il caso delle librerie comuni content delivery networks che appunto abbiamo già anche utilizzato tra l'altro per caricare per esempio i framework che è bootstrap piuttosto che react.js quando utilizzavamo diciamo in react senza una libreria react senza andare a utilizzare create react app e così via oppure ci sono altre informazioni diciamo fornite da terze parti che so previsione del tempo news valori finanziari e così via oppure appunto API servers che forniscono per esempio un'interfaccia REST anche nella propria rete come abbiamo visto perché sono domini differenti o magari porte differenti o anche pubblicamente accessibili quindi eventuali di terze parti quindi veniamo al nostro course cross origin result sharing è un meccanismo standard per implementare richieste tra domini differenti domini inteso in realtà qui come origin quindi course ci consente di definire un anzi scusate definisce un insieme di headers http che consentono al browser e al server di comunicare tra loro e quindi di chiarire quali richieste sono consentite e quali non sono invece consentite e di fatto è il server in questa architettura che definisce quali sono le origin che sono accettabili per ognuna delle richieste quindi è sostanzialmente questo server che nel momento in cui viene caricata la pagina dal dominio A prendiamo il dominio che è la cosa più facile da capire il dominio A carica la pagina e poi se all'interno vogliamo andare a caricare risorse da un altro dominio queste appunto sono controllate da course nella maniera che vediamo adesso e quindi tramite degli header che vengono serviti dal server appunto che corrisponde al dominio B in pratica quindi si usa questo meccanismo del course sui diciamo siti web più moderni per consentire di caricare le risorse della pagina diciamo accedendo a dei diciamo così tipicamente sottodomini o porte differenti come abbiamo visto in generale spesso si usano i sottodomini perché in produzione molto spesso si vuole che tutti i server web stiano sulle uniche due porte standard che sono a disposizione che sono la 80 e la 443 noi facciamo le nostre prove diciamo su porte differenti perché sviluppiamo però poi nel momento in cui siete diciamo vi collegate ad internet tramite tramite la rete qualcuno che vi do accesso alla rete internet spesso succede che possete accedere solamente a delle porte standard come 80 e 443 che sono rispettivamente http e https quindi di fatto il vostro problema non si riduce non si pone in termini di porte in questo caso ma in eventuali domini differenti spesso sottodomini o eventuali domini completamente differenti di terze parti che sono però devono essere diciamo devono fidarsi diciamo così della vostra applicazione e ovviamente bisogna fare molta attenzione nell'implementazione perché nel momento in cui diciamo consentiamo di fare troppe cose o consentiamo qualcosa che non dovrebbe essere consentito chiaramente rischiamo dei problemi di sicurezza si deve anche notare che tra l'altro questo non è l'unico problema di sicurezza diciamo cross site cross origin eccetera che esiste non vogliamo diciamo focalizzarci troppo su questi aspetti semplicemente nel momento in cui questi sono particolarmente evidenti impattano anche su quello che possiamo fare chiaramente li andiamo a sottolineare come appunto il caso del corso perché abbiamo necessità di avere più web server e quindi dobbiamo per forza gestirlo però ci sono altri problemi appunto cross site request forgery scripting eccetera che non sono trattati in questo corso e che invece sono più argomento diciamo da approfondire separatamente in corsi di sicurezza noi cerchiamo di evitare di creare problemi quando c'è il rischio di creare problemi di questo tipo chiaramente lo sottolineeremo però non vogliamo trattarli in maniera così approfondita veniamo quindi a come funziona course abbiamo detto che si basa su degli header utilizzati dal server web e che è inseriti anche dal browser quindi le richieste di tipo course devono includere l'origin proprio con un header che si chiama origin due punti da parte del browser e le risposte vanno a finire al browser e devono includere diciamo una lista di origins che possono effettuare effettivamente la richiesta quindi l'header si chiama access control allow origin e se i due matchano il browser consentirà allo script di accedere alla risposta quindi lo script diciamo così che è libero di fare qualsiasi richiesta però il browser limiterà l'accesso alla risposta di questa richiesta solamente se trova un header nella risposta che matcha con l'origin che lui spedisce che corrisponde quindi a quella dal quale ha caricato inizialmente la pagina che sta facendo girare lo script altrimenti dal punto di vista dello script sembrerà che questa richiesta sia fallita quindi il server avrà risposto al browser però il browser non passa il contenuto della risposta allo script questo si fa appunto per evitare che diciamo chiunque scriva del codice lo metta su un suo server e poi faccio in modo che le persone utilizzino il suo server che fornisce un sito con contenuto di interesse diciamo per l'utente che pensa quindi di diciamo di non avere effetti collaterali da parte dell'utilizzo del sito stesso che magari potrebbe anche assomigliare a quello del sito originale che utilizza le API che vogliamo andare a utilizzare e poi di nascosto all'interno appunto oltre a caricare questo sito diciamo che invoglie l'utente ad utilizzarlo va a fare queste richieste sul sito terzo magari appunto avendo l'utente autenticato per effettuare questa operazione sul sito terzo se la risposta appunto del non include il sito che appunto ha originato la richiesta il browser automaticamente bloccherà l'operazione quindi questo con il browser standard previene diciamo così problemi all'utente normale che utilizza un browser standard che quindi di default ha questa diciamo configurazione che impedisce agli script di funzionare correttamente se non è stato lato server diciamo autorizzato l'utilizzo dello script a caricare risorse per un certo dominio o origine un'ultima cosa da sottolineare è che ci sono però dei servizi come quei servizi pubblici che dicevamo prima liberamente accessibili da tutti che però vogliamo appunto che siano liberamente accessibili da tutti e questo si può fare basta che la risposta diciamo del server web sia appunto access control allow origin due punti asterisco che vuol dire sostanzialmente tutto bisogna però chiaramente fare molta attenzione a quali tipi di servizi si forniscono tipicamente questi sono servizi che non hanno effetti collaterali non prevedono autenticazione quindi l'unica cosa che può succedere è appunto che ci sia qualcuno che acceda dell'informazione mentre invece certe API possono consentire di modificare dell'informazione agire su 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 storage di dati e così via quindi in quei casi chiaramente bisogna fare molto più attenzione ecco di default tra l'altro le richieste fetch non spediscono informazioni diciamo credenziali di accesso per esempio i cookie a differenza invece delle richieste diciamo inviate automaticamente dal browser per richiedere appunto contenuti referenziati all'interno della pagina tra l'altro è possibile invece diciamo richiedere l'invio di queste credenziali perché per esempio magari dobbiamo fare accesso a un API che richiede un certo tipo di autenticazione e vi ricordate quando abbiamo visto la fetch c'era la possibilità di specificare un oggetto apposito con delle opzioni una delle proprietà che è possibile specificare in questo oggetto a parte per esempio c'era il metodo eccetera è credentials che sostanzialmente può assumere il valore include per dire di spedire informazioni anche di autenticazione quindi potete andare a verificare sui manuali qual è diciamo la modalità che vi interessa per esempio potete anche restringere la spedizione solamente alla stessa origine una cosa interessante da sapere è che diciamo a seconda del tipo di metodo http che viene utilizzato alcune di queste richieste di tipo course possono essere precedute da una richiesta addizionale che si chiama pre-flight request quindi inviata prima della richiesta effettiva vera e propria per verificare se la richiesta effettiva può essere spedita in tutta sicurezza a teroscopo si usa il metodo http option che quindi ci restituisce quello che effettivamente si potrà fare su quell'endpoint e con i relativi header che ci dicono che cosa con quali origin è possibile effettuare la richiesta queste richieste appunto si chiamano pre-flighted e sono state introdotte per evitare che sostanzialmente si invino delle informazioni da parte del browser e in ogni caso a queste API magari di tipo privata che poi scopriamo che in realtà non avremmo potuto inviare non avremmo dovuto anzi inviare e quindi il server non avrebbe dovuto ricevere questo è infatti un'altra di quelle cose fatta automaticamente da parte del browser e ciò è necessario appunto come il check dell'origin per evitare che appunto diciamo del codice all'interno del browser vada a fare questo tipo di richieste quindi in questo caso anziché ricevendo informazioni che non deve ricevere diciamo spedendo dell'informazione che non dovrebbe essere spedita questo è un esempio di richiesta che viene automaticamente generata dal browser quindi options qualcosa anziché get post eccetera e si richiede di utilizzare il metodo post con origin ovviamente si manda l'origin e il server ci risponderà che l'origin se consentita sarà qui nell'access controllo la loro origin e ci risponderà con i metodi consentiti allora il browser procederà con la post effettiva che era stata richiesta per esempio dal codice javascript sottolineiamo questo aspetto semplicemente perché bisogna sapere che per fare certe operazioni di fatto il browser anche se noi scriviamo un'unica fetch sostanzialmente ne fa due perché deve fare questa preflight request nel momento in cui noi carichiamo degli script quindi vediamo un caso diciamo particolare quindi abbiamo un tag script all'interno della nostra pagina e la situazione è un po' differente perché nel caso di script nel momento in cui carichiamo appunto del codice questo viene fatto girare con gli stessi privilegi di tutto il resto degli script che girano nella nostra applicazione web quindi questo è il caso di altre origini e quindi nel momento in cui carichiamo del codice ovviamente la cosa ancora più rischiosa è di caricare semplicemente dei contenuti perché va bene ok abbiamo spedito il cookie abbiamo caricato un'immagine e l'immagine al più può essere visualizzata nel momento in cui carichiamo invece del codice questo codice viene eseguito quindi potenzialmente può avere comportamenti maliziosi non voluti da parte di chi carica lo script quindi regola pratica caricate solamente degli script di cui vi fidate e includete sempre un check di integrità per evitare che qualcuno vi cambi quello che c'è dall'altra parte sul server voi chiedete di caricare una certa risorsa ma in realtà vi ne servite un'altra quindi questo è il motivo per cui quando abbiamo per esempio caricato il js di bootstrap abbiamo inserito un valore nel campo anzi nell'attributo integrity di script cosa fa questo attributo integrity controlla che effettivamente la risorsa caricata una volta che calcolate questo checksum corrisponde al checksum che abbiamo indicato il checksum è indicato nella prima pagina che avete caricato quindi siete voi che avete sviluppato l'applicazione che volete caricare questa seconda risorsa che è indicata questo checksum se il checksum fa il match vuol dire che sostanzialmente quella risorsa che avete caricato da un'altra origin può passare perché effettivamente è la risorsa che vi aspettate in questo caso ovviamente questo tipo di risorse saranno servite dalle cdn quindi dalle delivery network ovviamente con questo header che chiaramente sarà access control origin qualsiasi cosa perché dobbiamo consentire a chiunque di andarla a caricare però proprio perché viene fatta questa operazione di consentire a chiunque di caricarla dobbiamo stare molto attenti e appunto diciamo verificare noi che la risorsa caricata sia effettivamente quello che ci aspettiamo noi come sviluppatori dell'applicazione ecco caricare i moduli tramite script come avete già sperimentato diciamo in uno dei laboratori crea dei problemi perché nel momento in cui scarichiamo da file e quindi con l'URI che inizia per file che è diciamo quello che abbiamo iniziato a fare nei primi laboratori l'origin del browser non viene impostata diciamo a file due punti barabara qualcosa di questo tipo diciamo che sarebbe uguale per tutti i file che carichiamo dal sistema ma semplicemente viene impostata null e questo fatto di fatto diciamo impedisce di avere siccome gli altri file non hanno un header che diciamo consente l'origin null impedisce alle altre risorse che carichiamo sotto forma di modulo di funzionare quindi questo è il motivo per cui nella vostra soluzione caricata da file un sistema di questo tipo non funziona quindi se mettete type module non potete caricare risorse dal file system invece tutto funziona se le carichiamo da un web server locale perché? perché in quel caso avranno l'origin che corrisponde al web server che le ha servite che ha servito la pagina all'inizio e siccome i main.js index.js eccetera risiedono sullo stesso server di conseguenza hanno lo stesso origine e quindi il browser li carica senza alcun problema senza diciamo senza negarvi l'accesso a quella risorsa perché crede che sia di un origin diverso non consentito e quindi potete poi utilizzarle come siete abituati a fare con i moduli e quindi fare i vari import eccetera perché le risorse effettivamente sono caricate cosa che invece se sono sul file system non avviene come facciamo a far funzionare il meccanismo del course sul server quindi nel nostro api server in parte è già stata accenata nella lezione di react client server però qui diciamo approfondiamo bene prima di tutto dobbiamo configurare correttamente il nostro server e quindi nell'exp.js cioè il diciamo il framework che utilizziamo per andare a sviluppare il nostro server web dobbiamo fare attenzione quando per esempio in fase di sviluppo facciamo girare questo server web su una porta differente da quella dell'applicazione appunto react per esempio e questo avviene sempre perché la stessa porta non può essere riciclata per due server web perché se no non si saprebbe più qual è il server web che risponde alle richieste ecco notate bene tra l'altro che course è una cosa interamente interna al browser nel momento in cui facciamo richiesta al di fuori del browser curlo vget quel diciamo rest client che abbiamo usato all'interno del browser e così via tutto ciò non si applica cioè quell'header viene semplicemente ignorato la richiesta va avanti e il server risponde punto quindi però nel momento in cui utilizzate tool di questo tipo chiaramente siete ben coscienti di quello che state facendo chi invece utilizza un browser può essere l'utente diciamo ignaro di tutte queste tecnologie e che può essere facilmente ingannato ed è questo il motivo per cui i browser implementano queste politiche restrittive è vero che l'origin per questi tool esterni se non mandate un header apposta sarà null perché l'header non c'è però il web server diciamo non sa se la richiesta proviene da un browser o qualsiasi altro strumento lui semplicemente si limita a rispondere col solito header allow origin eccetera a seconda di come è stato configurato come andiamo ad attivare course in express c'è un middleware apposta quasi sempre quando c'è un problema comune per tutti c'è una soluzione comune già pronta installiamo quindi il middleware course npm install course quindi nel progetto di express che è quello dove abbiamo implementato le nostre API e lo andiamo ad utilizzare quindi course require course importiamo il modulo questo è il modo di importare i moduli in node e poi diciamo di usare middleware qui di default accetta qualsiasi origin e quindi manderà un allow eccetera asterisco quindi così tutte le richieste se invece vogliamo accettare una diciamo personalizzare gli header course per singole route quindi per singoli diciamo percorsi all'interno del nostro server web chiaramente dobbiamo andarlo a specificare prima di tutto nel percorso che ci interessa che so get slash product eccetera e andarlo ad aggiungere nei middleware che devono processare la richiesta e quindi in questa maniera siamo in grado di controllare il fatto che diciamo siamo in grado di accettare richieste cross origin per una certa route quindi per un certo percorso un certo metodo cors accetta anche delle istruzioni di configurazione per esempio possiamo specificare le origins che sono consentite se potessimo solo consentire cioè inserire asterisco chiaramente sarebbe di poca utilità ma qui possiamo usare per esempio delle stringhe che matchano per esempio appunto l'origin che ci interessa piuttosto che funzioni che ci dicono se quell'origin è da consentire o no quindi che ritornano per esempio un valore booleano piuttosto che un array di stringhe piuttosto che di espressioni regolari che devono far match con l'origin che ci interessa possiamo anche personalizzare quali metodi diciamo consentiamo oppure no e poi tutta una serie di altri parametri qui vedete i parametri di default che quindi consentono tutto per tutti i metodi sostanzialmente e che potete andare a personalizzare in caso di necessità eventualmente consultando il manuale per consentire il funzionamento delle richieste pre-flight che abbiamo visto in precedenza dobbiamo definire una ruta apposita che è quella options vi ricordate che abbiamo detto che queste richieste pre-flight usano il metodo options di http e quindi possiamo sostanzialmente dire che o le abilitiamo per per le singole route che ci interessano quindi singoli percorsi che sono di nostro interesse oppure possono essere abilitati per tutte le route e ovviamente bisogna farlo prima di inserire le routes stesse perché queste cose vengono diciamo processate in ordine prima di lanciare il server web express vero e proprio quindi questo è il modo di abilitare il pre-flight request per per alcune route oppure per tutte in caso di necessità abbiamo quindi terminato questo discorso sul course e quindi qui trovate diciamo delle risorse per approfondire ulteriormente in caso foste interessati o avesse necessità e quindi abbiamo capito come andare a configurare il course nel diciamo negli scenari di nostro interesse che sostanzialmente riguardano diciamo l'accessibilità del del nostro web server realizzato con express che ci fornisce l'API REST per far funzionare la nostra applicazione vi ringrazio per l'attenzione di per l'attenzione per l'attenzione